Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi parleremo di un argomento molto particolare ovvero delle strategie di marketing adottate da Crypto.com Faremo anche un veloce accenno su che cos'è e cosa comporta la Minet Kronos ed è perché effettivamente Crypto.com potrebbe essere più che un diretto competitor di altri grandi exchange Anzi vi dirò di più, ahimè, quel che sta cercando di fare ha proprio il fine ultimo di spodestare l'attuale leader di mercato ovvero Binance e lo sta facendo ragazzi in un modo davvero molto molto saliente Adesso vediamo come anche se resto del parere che sia qualcosa di estremamente difficile dato che l'attuale gap è davvero immenso Prima di iniziare ragazzi se avete piacere a guardare altri video come questo allora vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanellina così di rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che farò e di lasciare un mi piace per supportare la nostra passione Grazie mille ragazzi Innanzitutto partiamo dal lancio della Minet Kronos che cos'è e cosa comporta Kronos è una sidechain Ethereum Virtual Machine parallela alla blockchain di Crypto.org Già il termine Ethereum Virtual Machine ci dovrebbe far comprendere che per l'appunto possiamo utilizzare gli strumenti che tuttora utilizziamo su Ethereum anche per la DeFi su Kronos Ad esempio possiamo utilizzare il wallet Metamask per operare sulla DeFi di Kronos Mentre una sidechain ragazzi per chi non la sapesse in modo molto semplicistico è come se fosse una blockchain alternativa direi una blockchain di supporto che vada a migliorare le prestazioni di una blockchain già esistente Quindi Kronos permetterà il trasferimento delle applicazioni decentralizzate da Ethereum alla blockchain Crypto.org Faccio giusto una piccola parentesi quando parlo di Crypto.org mi sto riferendo alla blockchain Quando parlo di Crypto.com mi sto invece riferendo all'applicazione con tutti i servizi offerti ad esempio anche la carta prepagata mentre CRO è il token nativo della blockchain di Crypto.org In poche parole ciò significa che finalmente abbiamo la DeFi sulla blockchain di Crypto.org il che di conseguenza porta ad una maggiore adozione che si riflette in modo molto positivo su tutto l'ecosistema compreso il token CRO che verrà maggiormente adottato e potenzialmente in relazione alla crescita della DeFi su Kronos potrebbe anche eventualmente crescere di valore Considerate ragazzi che a poche settimane dal lancio della MyNet Kronos la DeFi su Kronos ha un total value locked quindi sostanzialmente la liquidità bloccata nei vari smart contract nei vari protocolli superiore al miliardo il che comunque è piuttosto notevole l'unica cosa fate molta attenzione ai vari protocolli che ne escono, che vengono sviluppati su questa DeFi perché sono estremamente rischiosi e probabilmente in molti sono anche degli scam in parte ragazzi questa crescita esponenziale ahimè è dovuta anche a un fondo che è stato stanziato e lanciato alcune settimane fa per incentivare le varie start up a sviluppare le varie daps sulla blockchain di Crypto.org considerate che è un fondo da 100 milioni di dollari che ha proprio il fine ultimo di supportare e accrescere notevolmente lo sviluppo di questo ecosistema mi fermo qui ragazzi per quanto riguarda Kronos e passiamo finalmente al perché Crypto.com potrebbe rivelarsi più che un ottimo competitor di altri grandi exchange premetto chiaramente ragazzi che questa è una mia supposizione dato che informazioni ufficiali non se ne trovano in ogni caso credo che la risposta a quella domanda sia nascosta proprio nel marketing che Crypto.com ininterrottamente sta portando avanti innanzitutto probabilmente alcuni di voi si saranno già resi conto che il marketing di Crypto.com per certi versi assomiglia molto al marketing della Red Bull che come ben sappiamo sono dei geni indiscussi in questo non peraltro si trovano in seconda posizione tra i brand con più visibilità al mondo secondi ragazzi soltanto alla Coca Cola la loro filosofia segue un po' questo concetto non ti vendo il prodotto ma al tempo stesso quel prodotto lo guardano lo vedono centinaia di milioni di persone di utenti il che segue uno dei principi alla base del marketing gli utenti non si cercano ma si attraggono e se ci pensiamo attentamente ragazzi questo concetto ovvero quello di non vendere direttamente il prodotto ma al tempo stesso di farlo vedere a milioni di persone lo sta facendo in parte o perlomeno questo è quello che penso io anche Crypto.com ma come? innanzitutto nel corso dei mesi Crypto.com è diventata sponsor di alcuni tra i brand più famosi al mondo come Aston Martin che gareggia in Formula 1 con cui ha stretto una partnership quinquennale costata 100 milioni di dollari per darvi l'idea dell'esposizione che gli darà soltanto questa collaborazione il gran premio della Formula 1 nel 2020 ha avuto in media 88 milioni di spettatori un altro brand molto molto più famoso con cui ha stretto un accordo addirittura decennale dal costo attenzione non ufficiale di 175 milioni è la UFC considerate anche in questo caso che la visibilità indossa da questa collaborazione è davvero mostruosa pensate che la UFC ha una base di fan di oltre 625 milioni di utenti inoltre ha anche collaborato con la serie A e molti altri marchi molto importanti e come non possiamo anche parlare dell'accordo ventennale sui diritti di denominazione da 700 milioni di dollari tra Crypto.com e lo Staples Center di Los Angeles che ora sarà rinominato come Crypto.com Arena e citerei anche lo spot pubblicitario con Matt Damon costato 100 milioni di dollari e che andrà in onda in più di 20 paesi quindi insomma di capitale dedicato al marketing ce n'è e ne stanno dedicando tanto voi giustamente però mi potreste dire sì fra ma anche altri grandi exchange stanno tenendo importanti collaborazioni guarda ad esempio l'exchange FTX che ha stretto una collaborazione con Mercedes nella Formula 1 o Binance con le varie squadre calcistiche su questo ragazzi avete perfettamente ragioni però vi dirò sapete qual è la grande differenza tra Crypto.com e gli altri exchange provate a scrivermelo giù nei commenti la prima cosa che vi viene in mente ahimè ragazzi la grande differenza per quanto possa sembrare banale sta proprio nel nome ci sarà un motivo perché hanno speso milioni e milioni per acquisire il dominio Crypto.com e Crypto.org vi lascio soltanto immaginare ragazzi quanto possano aver speso ebbene per me la chiave del loro marketing sta proprio in questo vi faccio qualche esempio guardi il marchio FTX o Binance sul berretto o la maglietta del tuo pilota preferito e qual è la prima cosa a cui pensi di per sé non pensi a niente perché il nome FTX o Binance non ti dice niente mentre il nome Crypto.com o Crypto.org è un nome che ti dice tutto ma nel frattempo non ti sta dicendo niente però ti lascio incuriosito e sapete perché? perché ormai delle Crypto se ne sente parlare quasi ogni giorno o perlomeno se ne sente parlare molto di più rispetto a qualche anno fa perciò se prima avevi quell'interesse suscitato da tutti i servizi televisivi documentari che parlano di Crypto ma magari eri ancora scettico sull'argomento trovando la scritta Crypto.com sulla macchina del tuo pilota preferito o sull'ottagono della UFC e associ quel nome appunto alle Crypto è molto più probabile che si inneschi la curiosità di voler approfondire quell'argomento e dopo averlo approfondito qualora vorrei comprare le tue prime Crypto la prima cosa a cui penserai inconsciamente è proprio la scritta Crypto.com che vedesti magari sulla maglia del tuo pilota preferito e questo è il punto il nome Crypto.com è un nome che comunque ti lascia qualcosa che già ti fa capire a cosa appartiene quel brand mentre un nome come Binance FTX Wobi eccetera sono dei nomi che di per sé non ti dicono niente almeno che tu non sia una persona curiosa e vada magari ad approfondire cos'è quel brand mentre per Crypto.com è molto più semplice ad esempio ragazzi per farvi capire di quanto effettivamente possa avere senso la scelta di acquisire il dominio Crypto.com di quanto veramente possa essere mirata questa scelta se noi dovessimo mettere a paragone il termine Crypto.com con il termine Binance.com o qualsiasi altro exchange oppure Crypto e Binance possiamo facilmente vincere che il termine Crypto e Crypto.com sono molto più ricercati di per sé perché il termine Crypto è un termine molto più generico rispetto ad esempio a Binance Binance.com ma Binance è soltanto un esempio perché è il leader prendo quello come esempio e se noi dovessimo fare una ricerca e provare a scrivere Crypto il primo il primo indirizzo praticamente che andiamo a trovare il primo link scusate è proprio quello di Crypto.com ovvero dell'exchange questo è giusto per farvi capire di quanto possa avere senso possa aver avuto senso scegliere proprio il termine Crypto.com e sapete qual è un altro suo punto a favore? la semplicità della piattaforma probabilmente la seconda scelta della maggior parte di voi user friendly quindi facile da utilizzare e non date per scontato che anche Binance o altri exchange lo siano perché in realtà per chi si approccia per la prima volta c'è le crypto Binance e Arabo ho un sacco di amici che di fatti per comprare le loro prime crypto hanno usato magari exchange come Coinbase che è relativamente semplice Coneo o proprio Crypto.com perché le ritenevano molto più facili da utilizzare è chiaro ragazzi che per noi che utilizziamo Binance da diversi anni è una sciocchezza ma vi assicuro che per chi si approccia per la prima volta non lo è affatto quindi il punto qual è? cerchiamo di trarre una conclusione ahimè quel che sta cercando di fare Crypto.com non è convertire i vecchi utenti ad utilizzare la loro piattaforma anche se in molti lo stanno facendo l'hanno fatto ma in primis io ad esempio non utilizzo Crypto.com come exchange ma prediligo la carta prepagata di Crypto.com bensì è molto più tagliente la cosa perché stanno cercando di posizionarsi come leader di mercato agli occhi di chi questo mercato ancora non lo conosce perciò quel che stanno facendo è concentrarsi sui futuri utenti sulla massa e il nome ragazzi gli fa da faro quindi ragazzi il punto è questo come la Red Bull è riuscita a trasformare un prodotto che di per sé ha anche un brutto sapore in un business multimiliardario Crypto.com non sta vendendo direttamente il suo prodotto ma al tempo stesso quel prodotto lo stanno guardando milioni di persone è questo mediante le varie partnership che sta portando ininterrottamente avanti e in futuro se quelle persone che al momento guardano il brand si inizieranno ad interessare appunto alle cripte al settore delle criptovalute è piuttosto probabile che la prima cosa che andranno a ricercare sarà proprio Crypto.com questo perché magari l'hanno vista sulla maglietta del loro fighter preferito sulla macchina del pilota eccetera eccetera è nulla ragazzi questa chiaramente è soltanto una mia supposizione sbagliato giusta che sia fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace un commento e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi